Questo è il nuovo scarpone da ghiaccio della Millet, un prodotto molto leggero dovuto alla sua costruzione con dei materiali molto innovativi. Prima di tutto abbiamo utilizzato qua il Super Fabric, un prodotto che utilizziamo da anni sulla calzatura come l'Everest che è il modello emblematico del marchio Millet. Uno scarpone che comprende una sottosuola in carbonio, una protezione molto avvolgente in gomma su tutta la parte interna e esterna dello scarpone, una ghetta in Gore-Tex apribile con la zip con un velcro molto resistente e novità abbastanza importante per noi. Oltre ai materiali termici in alluminio all'interno abbiamo una fodera in Primaloft. Questo scarpone noi lo dichiariamo dopo i test, capace di resistere a una temperatura negativa di 25 gradi. Questo è il nuovo Davai della Millet.